Sì, quest'anno è due giorni di fatto con appuntamenti importanti, perché appunto non sarà solamente il giorno 11, saranno l'11, 12 e il 13 in realtà, quindi tre appuntamenti, anche perché si sta allargando anche la partnership, quindi abbiamo la contributazione della diocesi in questo vero, stiamo cercando di coinvolgere tutti e due i centri storici perché di fatto sono stati protagonisti di quell'evento, un 1 perché il centro storico Ibla fu rasa al suolo con la metà degli abitanti del tempo che morì purtroppo con questo tragico evento, con quel terremoto del 1693 e poi la ricostruzione di Ragusa Superiore, e quindi si tratta di, anche i due centri di fatto vivranno entrambi questo momento con delle conferenze, con dei momenti, il momento concluso là chiaramente la commemorazione giorno 11 della mattina, la faremo a Santa Maria delle Scale, con questa alternanza che facciamo di anno in anno tra Santa Maria delle Scale e il portale del Duomo di San Giorgio. È un momento dove non facciamo solo memoria, quindi non ricordiamo semplicemente un appuntamento, è avvenuto un fatto tragico, è avvenuto 325 anni fa, ma facciamo anche memoria del nostro orgoglio, c'è un momento anche in cui come comunità ragusana ricordiamo il fatto che i nostri padri sono riusciti, in un momento difficilissimo dalle magerie a ricostruire una città che oggi è Ragusa, e quindi anche in questo l'orgoglio di poter vivere in questo momento. E io ringrazio ancora una volta gli Upolis e tutti i ragazzi delle associazioni che hanno voluto nel 2015 che il Comune istituzionalizzasse questa giornata, lo abbiamo fatto con grande piacere, ma tuttora continuano a organizzare, essere presenti in questo appuntamento e ci danno una possibilità come ragusana di poterlo vivere. Sì, questo è un evento nato in seguito a una proposta di Upolis del 2013 in seno al concorso dei giorni sulla memoria bandito dal Comune di Ragusa. L'accettazione della nostra proposta ha fatto sì che si potesse avviare quella che è stata la prima edizione del 2015 che seguiva di qualche giorno all'istituzionalizzazione di questa giornata in seguito a una delibera del Comune dell'8 gennaio. Oggi siamo qui a presentare la quarta edizione che è più articolata visto che si disloca su tre diverse giornate e quattro differenti sedi ed è un'occasione per poter ricordare non solo un evento tragico che ha portato la distruzione non solo di una parte di Ragusa ma di molte aree della Val di Noto ma è anche un'occasione per poter riflettere su quello che seguì negli anni post 1693 ovvero la ricostruzione che sono frutto di sentimenti quali appunto la voglia di ripartire, la rinascita che sono sentimenti ancora attuali che noi possiamo ancora prendere come riferimento e come spunto anche per questo 2018.